Promuovere una maggiore valorizzazione è una fruizione integrata del patrimonio culturale pugliese, migliorando l'accessibilità e incrementando l'attrattività dei beni culturali attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Con questi obiettivi è nato il progetto Simpact, sistema museale della Puglia, accessibilità e tecnologie, finanziato dal MIBACT. È emerso un dato che naturalmente già si conosceva in linea di massima, cioè questa grande quantità di beni, di siti, della cultura, di proprietà sia pubblica sia privata. Ed è emerso quindi un dato importante, cioè quello della necessità che tutti questi elementi, tutti questi beni del nostro patrimonio culturale siano messi in rete, siano sistematizzati ai fini di una valorizzazione vera e piena di questo patrimonio ricchissimo che ha la Puglia. Un patrimonio che molto spesso è trascurato? Un patrimonio che non sempre è opportunamente, adeguatamente valorizzato, questo senza dubbio. Il compito primario che riveste il Polo Museale della Puglia, che è un organismo periferico del Ministero dei Beni Culturali, il ruolo è proprio quello di catalizzatore, attrattore di tutti i beni della nostra regione e propulsore proprio per il lancio di questo sistema complessivo. Da qui è nata la necessità della realizzazione di questo progetto, il progetto Simpact appunto, finanziato dal Ministero dei Beni Culturali, che mira alla realizzazione di un sistema museale regionale che andrà poi a inserirsi in un discorso più ampio che è quello del sistema museale nazionale secondo quelli che sono gli indirizzi più recenti del nostro Ministero. Da questo progetto delle analisi è emerso anche che con un'adeguata promozione culturale la popolazione si avvicina di più alla cultura. Il dato che è emerso è anche molto significativo dal punto di vista della crescita della domanda di cultura che c'è in anni più recenti, sempre di più in Puglia, non si viene più soltanto per il turismo del mare, il turismo balneare estivo, ma si viene come si va in Toscana anche durante tutto il resto dell'anno anche per il suo patrimonio culturale. Quindi è importante canalizzare questo tipo di domanda e dare delle risposte adeguate. Molto spesso il patrimonio culturale in mano non all'ente pubblico, per esempio i musei civici, i diocesani o altri tipi di beni distribuiti nella nostra regione, non sono adeguatamente aperti e fruibili. Quindi i beni invece di proprietà dello Stato, gestiti dallo Stato e quindi dal Polo Museale della Puglia hanno invece questa possibilità, cioè sono fruibili, aperti al pubblico. Quindi bisogna collegare il tutto e unificare il viaggio che il visitatore viene a fare in Puglia in itinerari, tematici, culturali, anche suggestivi, che comprendano tutte queste possibilità, il museo, il castello, ma anche il parco naturalistico, eccetera. Quindi queste possibilità ce ne sono da noi e tante. Il Polo Museale della Puglia si impegna a promuovere questa destagionalizzazione turistica e culturale e espandendo maggiormente la propria rete e inglobando altri siti importanti, oltre i 13 che già ha al suo interno. Sì, uno degli obiettivi che ha previsto la riforma, voluta dal Ministro, è proprio quello di creare questa nuova struttura, il Polo Museale. Ma al di là della struttura di questi siti, che sono già assegnati al Ministero, quindi allo Stato, l'attività principale su cui il Polo si deve impegnare, si sta impegnando, è quella di creare una serie di reti con le realtà locali. Queste realtà locali sono, da un lato, come dire, poi l'espressione più importante di una cultura del territorio, ma soprattutto sono l'unica maniera per poi garantire dei percorsi all'interno della nostra regione, delle nostre province. Devo dire la verità, sia lo Stato che solo le amministrazioni locali, o ancora meglio la Chiesa, che detiene la maggior parte dei nostri beni culturali, da soli, non possono farcela. Cioè noi sappiamo che i costi di gestione sono elevatissimi. E mantenere aperte delle strutture, per far sì che questi percorsi turistici, che la Regione sta, d'altro canto ha questa competenza proprio sul turismo, sta finanziando, senza un raccordo sul territorio, e questo è un ruolo importante che svolge lo Stato, quindi il polo museale, non arrivano facilmente ad avere, a raggiungere i loro obiettivi. Sappiamo che soltanto l'11% delle persone giunge qui in Puglia per visitare i beni culturali. Sì, questo è sicuramente una importante realtà, che va comunque presa, diciamo, come un dato che deve essere sfruttato, perché noi sappiamo che la nostra Regione adesso esplode con Bed & Breakfast, che tutto sommato funziona essenzialmente d'estate. Devo dire che io, che sono una visitatrice, una turista della nostra Regione, per prima vado sul Gargano, vado nella provincia di Capitanata, ma anche nel Salento, in periodi particolari dell'anno, noi non riusciamo neanche a prenderci un caffè in alcune zone. Questo è uno degli obiettivi che noi ci stiamo ponendo, insieme proprio anche alla Regione e agli enti locali. Cerchiamo soprattutto di creare una rete, di una rete di servizi funzionanti, e questo credo che sia importante, perché è direttamente collegato anche ad un altro importante nostro bisogno, quello dell'occupazione. E credo che uno degli strumenti che noi abbiamo per creare occupazione e non far andare via dalla nostra Regione moltissimi giovani che si laureano, che studiano proprio per valorizzare il nostro territorio, sia quello di creare delle profonde sinergie, ma non soltanto, ripeto, sulla carta. Noi andremo a siglare una serie di protocolli con alcuni di questi enti con cui ci stiamo mettendo insieme per arrivare a raggiungere questi importanti traguardi. Nell'occasione della presentazione di questo progetto Simpact, un bene della città di Bari viene restituito finalmente alla cittadinanza. Devo ringraziare il provveditorato alle opere pubbliche che ha eseguito e ha realizzato questo importante restauro. La chiesa di San Francesco è una struttura che è stata restaurata perché venga utilizzata per eventi, manifestazioni. È uno spazio che mettiamo a disposizione della città, della città ma soprattutto anche di tutte quelle realtà importanti che stanno crescendo nel nostro territorio e come poi vedrete si pone e si offre per svariate iniziative. Devo dire sia dagli allestimenti di mostre ed esposizioni che per eventi di grande respiro. È una chiesa, a mio parere, il cui restauro veramente dà alla città un luogo importante. Dall'analisi di contesto della rete culturale è emerso che in Puglia il flusso turistico è aumentato registrando un incremento del più 8,7% nel numero di arrivi e un più 6,7% nel numero dei pernottamenti dal 2015 al 2016. Secondo i dati disponibili il 63% delle visite riguarda i musei, il 7% le aree archeologiche e il 30%. Complessi monumentali, il 36% dei visitatori effettua una visita presso strutture statali mentre il 64% presso strutture non statali. Sotto il profilo della stagionalità nei flussi invece i mesi di gennaio e febbraio sono quelli con minor numero di visitatori mentre si registra un incremento a partire dal mese di marzo. A giugno e luglio si registra una riduzione del numero dei visitatori poiché i turisti preferiscono le località balneari. I beni culturali della Puglia valgono il viaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che guardando i dati solo l'11% di chi viene in Puglia viene per visita ai beni culturali. È un processo in crescita ma non è sufficiente. Quindi mentre noi pensiamo ad altre regioni e pensiamo di andarci per visitare i beni culturali la Puglia fino ad oggi è stata essenzialmente comunicata come un trulli che sono un grande bene culturale ma anche un livi e mare. Cose fondamentali per noi ma adesso anche ai fini della destagionalizzazione oltre al fatto che è realmente un patrimonio stupendo il Polo Museale con questo progetto si candida ad essere coordinatrice di una rete che mette insieme i propri 13 beni culturali sono quelli più importanti passiamo da Castel del Monte a Ignazia, il Castello di Bari, Trani però anche il grandissimo patrimonio peraltro in questi anni molto finanziato e quindi ristrutturato ma non abbastanza loto. Quindi noi vogliamo passare con questo progetto a dare un prodotto culturale che in realtà probabilmente ancora manca in Puglia. Nel progetto Simpact noi abbiamo seguito la fase di censimento interfacciandoci con i vari partner, sono in tutto 33, che hanno aderito al progetto e con loro abbiamo realizzato una serie di schede di beni quindi abbiamo rielaborato i dati del censimento per ottenere una serie di informazioni utili al turista per poter visitare una serie di beni culturali, ambientali, musei e via dicendo. Alla fine di questo lavoro di analisi territoriale sono stati poi elaborati 16 percorsi i percorsi che abbiamo realizzato sono stati allineati all'organizzazione territoriale di viaggiare in Puglia in modo da poterli promuovere anche sul sito regionale, di valorizzazione turistica regionale infatti appunto le aree che abbiamo individuato sono le stesse i percorsi contengono una serie di informazioni utili al turista e i rimandi alle schede di approfondimento dei beni dal punto di vista storico-culturale e ambientale inoltre contengono anche degli approfondimenti che abbiamo fatto sul territorio per quanto riguarda la mobilità lenta quindi ci sono una serie di rimandi a schedature, a indicazioni sui percorsi slow quindi una modalità alternativa di fruizione del territorio quindi tratturi, piste ciclabili, percorsi ciclovie, diverse tipologie di percorsi slow questo per dare la possibilità al turista di visitare il territorio in maniera un po' più lenta un po' più immersiva e quindi avere un contatto diretto proprio con il territorio i percorsi nascono da un'esigenza fondamentale cioè quella di legare i beni del polo che restavano dei beni diciamo nicchia di eletti a tutto il territorio regionale e quindi in quest'ottica il progetto ha puntato ad una nuova modalità anche di divulgazione dei prodotti infatti anche la Iris si è occupata di realizzare un video, un video spot che però non è un video documentario come potrete vedere è un video emozionale, ci racconta una storia e attraverso appunto la storia, quindi la vita, il vissuto di un uomo qualunque si cerca di simulare nel fruitore quello che è un principio di medesimazione quindi qualsiasi target, qualsiasi età, qualsiasi persona si sente coinvolta nel video e quindi si spera che vada a visitare i nostri beni Grazie a tutti Grazie a tutti.